Le candeline di Futuro Remoto, un vero e proprio festival della scienza, oggi appunto la 37esima edizione, il tema è quello dell'intelligenza, da quella delle piante alla nuova frontiera dell'intelligenza artificiale. Il Città della Scienza insieme alle 7 università campane, al CNR, alla Regione Campania e a tanti altri attori organizza questa iniziativa costantemente che è un vero e proprio incontro e confronto tra il mondo della ricerca, dell'università, dell'innovazione con tutti quelli che sono gli utenti e quelle che sono le centenari di scuole che partecipano a questi eventi. Portare la scienza nella società, in qualche modo renderla comprensibile è il compito di divulgare scienza e cultura, è il compito di Città della Scienza che intorno a questa iniziativa, voglio ricordarlo, poi è nata Città della Scienza, è nato prima Futuro Remoto e poi Città della Scienza.